Gossip Woody, la scelta di Sara, clamoroso rifiuto da parte di Lorenzo? Uomini e donne Ultime news, si avvicina la scelta finale di Sara Affifella, ecco le novità. Per la bella Sara Affifella è giunto il momento di pensare a quella che sarà la sua scelta finale allinterno dello studio di Uomini e donne. Le ultimissime di Gossip di queste ore rivelano che ormai mancano davvero pochissime settimane al gran finale di questa edizione del Trono Classico e tutti i tronisti che sono rimasti in carica saranno presto chiamati a rivelare la loro scelta finale. La tesa scelta di Sara a Uomini e donne. Nel dettaglio vi annunciamo che la prossima registrazione di Ued è in programma questo martedì 8 maggio, tuttavia non dovrebbe essere caratterizzata da nessuna scelta, dato che anche per l'epilogo di Sara Enilufar la registrazione avverrà prima nella villa e successivamente in esterna. Ormai, infatti, la redazione del dating show di Maria De Filippi ha deciso di sperimentare questa nuova modalità di scelta che in un certo modo riesce ad attirare maggiormente l'attenzione e la curiosità degli spettatori da casa, dato che fino alla messa in onda non viene spoilerato nulla. Intanto Sara si gode le sue ultime esterne con Lorenzo e Luigi prima di arrivare al momento finale. Le ultimissime di gossip che arrivano dalla puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa proprio oggi pomeriggio in tv, rivelano che l'atronista sarà alle prese con una nuova doppia esterna con i suoi corteggiatori, durante la quale vedremo che si lascerà andare a dei nuovi momenti di grande passione con l'uno e con l'altro. Anche questa volta, infatti, Sara si lascerà trasportare dalle emozioni e dai sentimenti che prova nei confronti di Luigi e Lorenzo, cimentandosi in una serie di baci super appassionanti che potrebbero anticipare quella che poi sarà la sua scelta finale. Cos'è successo in questa ultima registrazione che vedremo in onda proprio questa settimana in tv? Lorenzo dirà no a Sara? Dubbi e sospetti sul corteggiatore. Le gossip news rivelano che Sara ha avuto la possibilità di fare una seconda esterna speciale con uno solo dei due corteggiatori in gara e alla fine ha optato per Luigi. I due sono stati in giro per Avezzano, città natale di Luigi, dove Sara ha avuto modo di entrare in contatto con la realtà del suo corteggiatore. Un gesto che potrebbe scatenare l'ira di Lorenzo e proprio per questo motivo in molti temono che sebbene alla fine Sara sceglierà Lorenzo, la risposta del corteggiatore potrebbe essere negativa in quanto interessato solo relativamente all'atronista e di più al contesto televisivo e dello spettacolo. Ciao!